giovane dico a te alzati è il tema della giornata mondiale della gioventù che abbiamo celebrato due giorni fa la domenica delle palme un tema che papa francesco ha declinato in un messaggio significativo rivolto ai giovani scritto partendo dalle parole che gesù ha rivolto al figlio unico della vedova di naim nel quale invita i giovani a lasciarsi guardare e toccare da gesù ad alzarsi come ha fatto quel giovane a riaccendere i desideri ad avere uno sguardo attento alla realtà a farsi prossimo dell'altro un messaggio forte che ha ripreso anche il nostro arcirescovo a tutti i giovani e a quelli che sono giovani dentro un po come noi voglio ripetere il grido di gesù vieni fuori irradia la gioia sveglia la bellezza di fondi profumo di pace e di amicizia come sportivi csi giovani e giovani dentro come dice il nostro arcirescovo non possiamo rimanere indifferenti a questi appelli in questi giorni che ci conducono alla santissima pasqua e nelle prossime settimane mentre saremo in speranzosa attesa di un primo graduale segnale di ripresa proviamo a riprendere il messaggio del santo padre forse dentro questo giovane dico a te alzati c'è un invito anche per la nostra esperienza di sportivi non sappiamo quando e come si riprenderà non sappiamo se ci sarà possibile concludere i campionati c'è voglia però di ripartire ma dovremo farlo quando sarà possibile probabilmente con delle modalità tutte nuove senza imporre schemi adattandoci alle possibilità che saranno concesse insomma quando sarà il momento ci rialzeremo insieme il csi con le sue società sportive pronti a farci prossimi con rinnovata creatività al servizio dei giovani e dei giovani dentro che anche grazie al gioco e allo sport con un sorriso verranno davvero ascoltare l'invito del signore risorto giovani dico a te alzati una buona pasqua di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie ci rivediamo presto sui nostri percorsi dello sport ciao